Architetto Basile, state lavorando già da inizio anno per le verifiche sugli stabili ATER, ovviamente verifiche che sono state intensificate dopo il sisma, però ha detto in conferenza stampa non ci sono problemi di stabilità per nessun stabile dell'ATER. I fabbricati che abbiamo attenzionato attraverso le nostre strutture tecniche sono quelli in prevalenza alti, diciamo che le torri, ne abbiamo una ventina circa su tutto il territorio pescarese, fabbricati oltre gli otto piani, che in ogni caso hanno probabilmente risentito delle vibrazioni e in qualche modo hanno reso più evidente qualche fenomeno già peraltro in atto, derivante da una manutenzione che manca. E quindi su questo dobbiamo fare il punto della situazione anche con la Regione per mettere a punto una strategia opportuna per far fronte almeno alle evidenze quelle più immediate. Noi puntiamo all'obiettivo che in un mese abbiamo i rilievi di tutto ciò che è il danno nel patrimonio regionale, per fare questo c'è la necessità di intervenire con un numero significativo di tecnici rilevatori e quindi modifiche normative e soprattutto qualche disponibilità finanziaria per dare alle ATER e a quanto è a disposizione per il meccanismo dei controlli la possibilità di poter rilevare con dei tecnici i danni. Grazie. Grazie. Grazie.